Eugenio, oggi si è trattato l'argomento delle community, si sono evidenziati diversi aspetti delle community, sia positivi che negativi, abbiamo sentito. L'esempio di RTL125 qual è? Quale esempio di community state portando avanti? Abbiamo sentito che ci sono degli errori che spesso le aziende commettono nell'utilizzare al meglio le community. Voi invece, quale esempio state portando avanti? Sai, noi siamo diversi rispetto ai brand tipici che devono vendere qualcosa, perché noi facciamo comunicazione, comunicazione e intrattenimento. Per cui, come spiegavo oggi, per noi è estremamente importante capire quelli che sono, siamo passati da una grande community, noi facciamo una comunicazione generalista, a cercare di differenziare sempre di più la nostra offerta, di modo che riusciamo a far sì che anche i microgruppi che in qualche modo non si sentono pienamente soddisfatti di quello che abbiamo offerto in passato, oggi trovano qualcosa che sia concreto e fatto su misura per loro.